Ormai abbiamo indetto lo stato di agitazione e molto probabilmente il problema si risolverà solo se a convocazione del prefetto andiamo su quel tavolo, che è un tavolo governativo, andiamo a definire se i resoconti e gli estratti che hanno determinato degli atti deliberativi sono conformi a quella che è stata la legge di riordino regionale approvata dall'Aggiunta regionale della Campania in data 30 ottobre ultimo scorso. Quindi con molta probabilità è solo su quel tavolo che si riuscirà a sviscerare bene il problema anche se sembrerebbe che vi sia una correzione da dover fare obbligatoriamente e atteso che bisogna focalizzare all'aprile 2014 lo stato dell'ente e verificare effettivamente se gli atti che hanno prodotto rientrano in quello che è l'obbligo del 50% e in quello che è l'obbligo di mantenere dotazioni organiche che siano coerenti al fabbisogno specialmente per le funzioni fondamentali. È un discorso che vogliamo aprire sul serio. Se poi la provincia intende continuare a non avere un momento di confronto e trovare un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali il Presidente Canfora se ne assuma tutte le responsabilità.